Mentre l'Arabia Saudita auspica il rafforzamento dei solidi legami storici con gli Stati Uniti d'America, paura è il termine più usato dai giornali arabi il giorno dopo la vittoria delle elezioni statunitensi di Donald Trump, subito battezzato il Gheddafi americano ma anche paragonato a Benito Mussolini e ad Adolf Hitler. Memori delle dichiarazioni anti-islamiche ed anti-sauditi, gli editorialisti dei grandi quotidiani arabi non credono affatto al discorso moderato pronunciato da Trump subito dopo la vittoria. Non manca chi, come Al-Shark al-Afsat, quotidiano di proprietà saudita, critica i governi arabi per aver puntato sul cavallo sbagliato. Secondo il quotidiano, edito in Gran Bretagna, all'epoca della guerra fredda nessuno tra gli amici degli Stati Uniti aveva il minimo dubbio sugli obiettivi internazionali della diplomazia di Washington. Mentre oggi i dubbi tormentano persino i più vicini alleati e rendono insonni le notti degli amici. Oggi, secondo il quotidiano, siamo di fronte a un fenomeno preoccupante non solo in America e Gran Bretagna, ma anche in Italia, Francia e Austria, dove una deriva estremista e populista appare sempre più come una profonda rottura tra ragionevoli e matti. Oltre oceano, anche New York Times è cauto e titola Un altro dilemma per il Medio Oriente, cosa fare con Donald Trump. Il quotidiano leva toni preoccupati verso la promessa di collaborazione con la Russia, alleata di Bashar al-Assad. E la stampa, bellezza, un'altra parte dell'establishment che non accetta la sconfitta. L'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti introduce un elemento di incertezza nel Medio Oriente. Nel corso della campagna elettorale, Trump aveva dichiarato che in caso di vittoria, l'obiettivo di Washington in Iraq e in Siria sarebbe stato l'annientamento di Daesh e non il rovesciamento di Assad. Nel timore di vedersi privare del sostegno americano, l'opposizione siriana ha auspicato che Trump presidente sia diverso da Trump candidato. L'offensiva a Mossul, condotta in fretta e furia nella speranza che contribuisse alla vittoria dei democratici, con Trump potrebbe riacquistare vigore. Ma il passaggio di consegne è previsto per il 20 gennaio. Fino ad allora, Barack Obama può prepararsi a lasciare la Casa Bianca sbattendo la porta. Ma quale sarà questa porta? Mossul, Raqqa o Assad? Decine di migliaia di persone al grido di Not My President sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti per protestare contro l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Gli appelli ufficiali dei leader democratici a riunificare il paese e la promessa di Trump di essere il presidente di tutti gli americani non sono bastati ad anestetizzare le ferite di una campagna elettorale drammatica, chiusa con un voto che per i democratici è scioccante e inaspettato, data la campagna quasi completamente unilaterale dei media mainstream. Manifestazioni si sono tenute a Washington, New York, Chicago, Portland, Philadelphia, San Francisco, Boston, Los Angeles e Oakland, dove c'è stato anche un ferito. Si registrano scontri tra manifestanti e polizia e 30 arresti sulla Manhattan. I servizi segreti russi hanno arrestato in Crimea tre sabotatori ucraini armati. Il Servizio federale di sicurezza ha comunicato che il gruppo eversivo e terroristico del Ministero della Difesa ucraino stava pianificando attacchi contro le infrastrutture civili e militari della penisola. Al momento dell'arresto i sabotatori erano in possesso di ordini esplosivi molto potenti, armi e munizioni e mappe e schemi degli edifici. Già lo scorso agosto gli agenti del Servizio federale di sicurezza avevano impedito una serie di attentati, per mezzo dei quali Kiev intendeva destabilizzare la Crimea in vista delle elezioni parlamentari russe. Secondo l'ex ambasciatore statunitense a Mosca Michael McFaul, i grandi sconfitti delle elezioni americane sono gli ucraini. Nel corso della campagna elettorale d'oltreoceano, Kiev ha mostrato il proprio appoggio a Hillary per un inasprimento della politica russofoba di Washington e l'invio di armi letali in Ucraina. L'imprevista vittoria di Trump ha costretto molti ad agire tempestivamente. Il ministro degli interni Arsenavakov, per esempio, che mercoledì mattina ha cancellato da Facebook il post in cui paragonava Donald Trump a un reietto. Stessa sorte per il messaggio del leader del partito radicale Aglieszko, che aveva definito l'eventuale vittoria di Trump una catastrofe. Poroshenko si è comunque congratulato con l'ex pagliaccio per la vittoria e ha espresso la speranza che il nuovo leader della Casa Bianca continui a sostenere gli ucraini nella lotta contro l'aggressione russa. Ma nel programma di Donald Trump, l'Ucraina non sembra rientrare tra le priorità degli Stati Uniti. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, rilancia l'urgenza di dare corpo a un esercito difensivo europeo. Secondo Juncker, in futuro, gli Stati Uniti non saranno più in grado di garantire la sicurezza dei cittadini europei. Perché proprio ora? Juncker non lo dice, ma sembra chiara la sua preoccupazione di fronte al cambio di scenario appena avvenuto con la nuova presidenza Trump. Juncker e l'Europa temono il neo-isolazionismo di Trump. Proprio ieri, il leader europeo, insieme al presidente del Consiglio, Donald Tusk, ha invitato Donald Trump alla collaborazione su Stato islamico, Ucraina, cambiamento climatico e migranti. In realtà, proprio Trump potrebbe invece essere un'occasione perché l'Europa, finalmente libera dalle pressioni degli Stati Uniti d'America, ritrovi se stessa, prima ancora che un suo esercito. In coincidenza con la vittoria di Donald Trump, il Parlamento estone ha deposto Tavi Reivas dalla carica di primo ministro. Conformemente alla Costituzione, a dimettersi sarà tutto l'esecutivo. Reivas si è distinto per la sua retorica russofoba, ma la coalizione al potere rassicura i partner dell'Estonia. L'attuale politica estera dello Stato baltico resterà immutata. Prime risposte dal Sud America al messaggio rassicurante di Donald Trump, che subito dopo la vittoria ha annunciato che gli USA non entreranno in conflitto con nessun paese straniero. Cuba si accinge ad esercitazioni militari strategiche. Avranno luogo fra il 16 ed il 18 novembre e coinvolgeranno anche la popolazione. La stessa cosa era accaduta all'alba della vittoria di Ronald Reagan. A Lavana la vittoria di Trump è stata accolta con preoccupazione. Durante la campagna elettorale il miliardario si è dimostrato chiaramente ostile alla soppressione dell'embargo commerciale e finanziario imposto all'isola dal 1962. Preoccupazione proviene anche da Caracas. Il presidente Nicolas Maduro augura di avviare relazioni diplomatiche con la nuova amministrazione USA basata sul rispetto, che non comprendono interferenze negli affari interni venezuelani. Michel Temer, invece, neopresidente del Brasile, in carica dopo l'impeachment di Dilma Rousseau, si dice certo che Brasile e Stati Uniti lavoreranno insieme per rafforzare i vincoli di amicizia e cooperazione. Dopo le elezioni di Donald Trump è difficile comprendere come cambieranno le relazioni economiche tra l'Africa e gli Stati Uniti in America. Le promesse elettorali di Trump sembrano suggerire un progressivo isolazionismo che già ha destato preoccupazione, in particolare il Sudafrica, dove si teme un aumento della tassazione sui prodotti esportati negli Stati Uniti. Il Sudafrica, membro dei BRICS, è la prima economia del continente africano, già duramente colpita negli ultimi mesi dal crollo dei prezzi delle materie prime. Sul piano politico, tutti i leader africani si sono frettati nelle ultime ore a congratularsi con il nuovo presidente eletto. Tra i messaggi, tuttavia, spiccano quello dell'Uganda, che già aveva chiesto l'uscita della Corte Penale Internazionale, e quello dell'ex vicepresidente del Sudan del Sud, Riek Makar, secondo cui l'avvio dell'amministrazione Trump rappresenterà la fine dei dittatori africani. Le forze di sicurezza di Ankara hanno arrestato un magistrato turco, membro del Tribunale Penale Internazionale. Haydn Sedda Fakai è stato fermato il 21 settembre scorso per presunti legami con gli autori del colpo di Stato avvenuto a luglio in Turchia. La notizia è stata resa nota solo in queste ore. Si tratta del primo caso al mondo di arresto in violazione dell'immunità diplomatica garantita dall'ONU. Mentre il mondo intero seguiva le elezioni statunitensi, in Nicaragua è stato rieletto, con più del 72% dei voti, il 71enne Daniele Ortega. Immediatamente Washington ha espresso dubbi sulla legittimità del voto. Daniele Ortega venne eletto presidente per la prima volta nel 1984. Ora sta per iniziare il suo terzo mandato consecutivo. A dispetto della povertà, il Nicaragua è uno dei paesi più stabili dell'America centrale. Forte dell'appoggio di Pechino, Ortega porta avanti il progetto del Canale del Nicaragua, la cui costruzione iniziata due anni fa e che potrebbe dare del filo da torcere al Canale di Panama. Grazie a tutti! Grazie a tutti